Ok, boom, oggi video senza introduzione, anzi la faccio ma sarò brevissimo I mercati calano, ci sono titoli in questo momento oggettivamente pessimi che sono dopo un paio d'anni tornati ai livelli dove effettivamente dovevano stare ma in tutto questo ci sono anche alcune occasioni che stanno iniziando a presentarsi dei titoli che sono un po' più in basso di dove a parer mio dovrebbero essere Chi però si rivolge al mercato azionario nella speranza di trovare il titolo che da qui a un anno dal primo investimento faccia il più 100% ha proprio capito male e non funziona così Per tutti gli altri invece, ok, allora andiamo a vedere che cosa offre il mercato in questo momento Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e perché ho voluto fare un intro così secca, così asciutta? Perché in questo momento vedo tantissimi investitori, magari investitori passivi che sono sempre stati abituati a comprare indici che andavano solamente su che ora vedono effettivamente il portafoglio scendere quindi stanno un po' riconsiderando tutto il loro piano esistenziale di investimento e quindi in tutto ciò si rivolgono anche alla ipotesi di acquistare singoli titoli E ok, benvenuti nel mondo dello stock picking ma fatelo con coscienza Pensare infatti che siccome tutti i mercati calano se invece compri singoli titoli allora tu sarai in grado di comprare quei 3-4 che mentre tutto fa schifo andranno su beh è abbastanza irrealistico o meglio non te lo puoi aspettare Comprare oggi azioni infatti significa accettare la possibilità che questi titoli continueranno a scendere per quanto non si sa nessuno lo può sapere ma a sto proposito vi chiedo avete fretta? cioè il perché di farsi questa domanda? se questa domanda è dettata dal fatto che sperate di poter acquistare sui minimi toglietevelo dalla testa perché non si può fare se invece avete appunto fretta di entrare a mercato perché tutto sta calando di nuovo anche qui cerco di tranquillizzarvi perché di fretta si fanno le peggiori scelte possibili ma quindi cosa sto facendo io in questo momento? tanto per cominciare ho venduto praticamente l'unico titolo che avevo in portafoglio e che avevo comprato inizio anno che contro tutte le mie aspettative è andato molto bene infatti sovraperformando il mercato di un sacco mentre tutto è sceso Monster di cui vi avevo parlato proprio inizio anno è salita dal mio acquisto a 83 dollari mentre il registro è a 97 io chiaramente non mi aspettavo questo rendimento in così poco tempo infatti sapete che io mi aspetto sempre dei rendimenti medi nel lungo periodo non certamente una botta del genere soprattutto su un titolo come Monster che non è molto volatile e quindi siccome adesso secondo me ci stanno presentando delle occasioni molto interessanti e Monster inizia a diventare un po' cara vendo e mi sposto su altro che cosa? è ancora sto facendo un bel po' di valutazioni molte magari le avevo già fatte prima dei crolli e quindi ora non devo rifare tutto il lavoro altre invece sono aziende che ho iniziato ad analizzare adesso io oggi vi voglio parlare in breve perché è un video solo di 5 aziende che sto monitorando molto da vicino e che alcune sono decisamente sottovalutate quindi sto pensando di fare degli ingressi subito altre invece sono o lì lì oppure appena appena sottovalutate quindi me le voglio ancora studiare per bene io come ogni volta ricordo che questi video li faccio solamente a scopo informativo didattico per farvi conoscere aziende che magari non conoscete o per farvi appunto capire qual è la mia metodologia di ragionamento in modo tale che possa esservi utile ma non sono assolutamente dei consigli di investimento per queste 5 aziende non ci guadagnerai nulla e soprattutto lo trovo sbagliatissimo iniziamo quindi con un'azienda che apprezzo davvero tantissimo che è Disney Disney è un'azienda di cui mi avete già sentito parlare sul canale più volte potremmo infatti dire con buonissime probabilità che è una delle aziende che seguo di più proprio perché mi affascina tantissimo peccato che da due anni a questa parte è sempre stata per le mie aspettative decisamente troppo cara infatti stava scontando una specie di euforia irrazionale di Disney Plus che ora finalmente si è sgonfiata se Disney mi piace così tanto non è casuale ma è perché è un'azienda che è stata in passato capace di resistere a crisi endogene quindi crisi interne, aziendali, crisi creative per esempio e anche crisi esogene e ne è uscita abbastanza bene dal 2008 va detto ultimamente invece vedo che il sentiment per Disney l'umore generale degli investitori è decisamente negativo molti la vedono come un'azienda che non sarà mai più capace di reinventarsi anzi non c'è nemmeno il concetto di reinventarsi perché è un'azienda morta nessuno andrà più nei parchi a tema e cose del genere non sono di questo avviso ma per chi conoscesse Disney solamente di nome rinfreschiamo brevissimamente la memoria che cosa fa Disney? gli segmenti principali dell'azienda sono parchi, esperienze e prodotti Disney questo è il segmento che si occupa di gestire i parchi, le crociere e in generale tutti i prodotti che direttamente Disney vende il secondo segmento è quello dei media e dell'intrattenimento televisivo alcuni canali via cavo negli Stati Uniti come ESPN, ABC Family, Disney Channel e sono solo alcuni sono dei canali a pagamento quindi tanto per cominciare Disney guadagna dai canoni che la gente deve pagare per poter accedere a questi canali o che delle tv più grandi pagano per avere accesso a questi canali per esempio Sky compra l'accesso a Disney Channel e lo subvende ai propri clienti terzo segmento, produzioni cinematografiche qui non credo ci sia particolarmente niente da dire escono film Disney, Marvel e anche della Lucasfilms regolarmente e lì insomma c'è un budget per i film e si incassa i ricavi che il film ottiene al cinema abbiamo poi merchandising o marchi in licenza anche qui non credo ci siano bisogno di spiegazioni e infine ultimo segmento, l'ultimo arrivato è quello dello streaming infatti già Disney aveva ESPN Plus e anche Hulu ma ora con l'aggiunta di Disney Plus beh è tutto abbastanza cambiato prima della pandemia il segmento dei parchi dell'esperienza era uno di quelli più redditizi e da allora non si è completamente ripreso mancano ancora circa 10 miliardi di fatturato per tornare al fatturato pre-pandemia e a regime, quindi pre-covid, il margine era di circa il 30% quindi sostanzialmente all'appello manca ancora un utile di 3 miliardi che magari non arriverà domani magari ce ne vorranno altri 3 di anni però questo solamente per tornare ai livelli precedenti nemmeno prevedendo una crescita parallelamente come abbiamo detto Disney ha creato Disney Plus che è in continua crescita che al momento è in perdita va detto ma credo che Disney rispetto a Netflix avrà un percorso verso la profittabilità molto più breve quindi potrebbe già diventare in profitto Disney Plus a mio avviso nell'arco di 3-4 anni da ora l'unica cosa che al momento mi trattiene un pochino dal comprare pesantemente Disney non è sicuramente il prezzo ma è il management già ci ho fatto un video apposta su questa cosa perché mi sta davvero tanto a cuore dove esprimo un po' i miei dubbi sull'attuale management di Disney e invece quanto mi piacesse il management precedente ma ve lo lascio qui in alto così potete andare ad approfondire a 90 dollari comunque avevo già messo il primo ingresso e sfiga vuole che non mi ha preso l'ordine perché Disney ha toccato purtroppo solamente i 91 quindi adesso ho rimesso l'ordine in piattaforma e vedrò un po' come muovermi seconda azienda che sto valutando in realtà non è un'azienda o meglio è un REIT di REIT ne abbiamo parlato pochissimo tempo fa e questo si chiama Keppel DC REIT questa è un'azienda quotata a Singapore ma non ha degli immobili solo a Singapore ma ce li ha anche molto in Europa DC non è una sigla a caso ma sta per Data Center infatti questa azienda come immobili ha degli immobili che poi si occupano all'interno di gestire Data Center un mercato secondo me super interessante e che per gli anni che arrivano sembra promettere davvero bene questo mi interessa non solo per le prospettive di crescita che sono comunque molto alte ma anche per la capacità di resistere a delle recessioni se infatti andiamo a vedere il portafoglio di clienti di Keppel DC non sono aziendine che devono avere il loro mini server ma sono aziende anche molto importanti loro non dichiarano i nomi specifici ma parliamo di aziende che sono nelle Fortune 50 quindi insomma aziende davvero importanti che difficilmente vendono tutti i Data Center e chiudono i battenti durante una recessione quindi il portafoglio di Keppel è solido l'azienda è in continua crescita ci basta andare a vedere i bilanci eppure da un bel po' sta calando come è possibile? la risposta è molto semplice ed è i tassi di interesse in questo momento Keppel ha un dividendo del 5% che essendo a Singapore lo ricordo non è passivo di doppia tassazione quindi noi pagheremo solamente il 26% il decennale di Singapore invece quindi obbligazioni statali paga in questo momento il 2,8% si possono vedere per un investitore tutto ciò come due alternative quindi o corro dei rischi maggiore mi compro quel titolo che mi paga il 5% o corro dei rischi molto molto più bassi che mi pagano il 3% e uno si fa un po' due conti ma nel momento in cui il tasso risk free se vogliamo considerarlo così aumenta allora beh chiaramente pretenderò dei dividendi più alti quindi se paga il 5% o quelli là aumentano al 4% beh magari voglio il 6% di dividendo e quindi al momento la vendo questo è il meccanismo ma non dovesse bastarvi la teoria vi faccio vedere anche questo grafico che mostra in verde il dividendo del REIT in marrone il rendimento del decennale di Singapore e vedete che le due cose sono chiaramente altamente correlate questo grafico purtroppo non va più indietro perché su TradingView non mi appare ma in questo momento i rendimenti sui bond di Singapore sono vicini ai massimi storici che sono del 3,5% ora siamo al 2,8% quindi il rischio più grande per questa azienda non è a livello fondamentale ma viene dall'esterno ossia quello che i tassi possano aumentare fino ai massimi storici magari anche oltre e a questo punto comprarlo oggi beh non rappresenterebbe più un acquisto interessante siccome però a Singapore non hanno un'inflazione altissima come ce l'hanno negli Stati Uniti al 9% ma sono più su cifre come 3 o 4% credo che ora inizieranno a rallentare l'aumento dei tassi e quindi questo REIT potrebbe essere interessante terza azienda di oggi Tencent Tencent è un'azienda cinese davvero fantastica è probabilmente una delle aziende cinesi più grandi e importanti e influenti a livello nazionale e anche internazionale a causa però della situazione in Cina quindi il covid e anche dei rapporti abbastanza tesi col governo questo titolo dai massimi ha perso il 60% e adesso si trova esattamente ai minimi della crisi del covid e anche come valutazione in termini di multipli sta sui minimi storici con un EVB da atteso di poco meno di 16 e so che 16 per un multiplo del genere può non sembrare pochissimo ma in realtà parliamo di un'azienda che cresce in continuazione paga dividendi in modo stabile da sempre in aumento ha un margine tra il 25 e il 40% la posizione finanziaria quindi i debiti è ottima e il debito pensate che è per un'azienda così grande è coperto per circa metà solamente dalla liquidità su questa azienda però non mi dilungo perché credo che non sia ancora super sottovalutata quindi me la prendo con calma la ristudio perché l'avevo analizzata in modo molto approfondito diversi anni fa quindi ora me la riapprofondisco penultima azienda di oggi e state fino all'ultima perché ho lasciato quella un po' più rischiosa alla fine la numero 4 è Tecnogym incredibile ma vero siamo in Italia sì lo siamo però solo perché Tecnogym vende ben poco in Italia nel 2021 circa il 10% Tecnogym è un'azienda davvero ottima che al momento si trova sostanzialmente ai minimi pandemici con però delle prospettive che non sono assolutamente le stesse ma ben migliori al momento infatti sembra che Tecnogym stia scontando un'inflazione incredibile sui propri prodotti ma notiamo come Tecnogym nonostante l'inflazione sia già ampiamente arrivata e quasi tornata al fatturato pre-pandemia e in tutto ciò i margini non ne hanno risentito e questo cosa significa? che l'inflazione è già stata ampiamente assorbita ma com'è possibile che un'azienda come Tecnogym se ne freghi dell'inflazione mentre invece tutte le altre stanno soffrendo? la risposta è molto semplice il marchio il brand la reputazione di questa azienda fa sì che se anche aumenti i prodotti le palestre sanno che cose stanno comprando in questi momenti e quindi dicono vabbè ok la pago un pochino di più molto meglio che rischiare in una fase come questa e comprarmi macchinari che poi non so se sono effettivamente buoni e se però dovesse esserci una recessione globale quindi tutto dovesse andare in crisi la gente non va più in palestra perché è costretta a tagliare le spese certo tutto questo è possibile ma chiediamoci davvero è davvero una prospettiva peggiore di due anni quasi di chiusure in tutto il mondo e quindi palestre che hanno pallito a profusione a mio avviso no inoltre in questo mercato con un euro molto debole Technogym è forse una delle poche aziende che può beneficiare o quantomeno non soffrire da questa situazione proprio perché in Italia vende in euro in Europa vende in euro e quindi non cambia niente ma per tutto il resto dove vende all'estero i prodotti Technogym che ricordiamolo sul mercato dei prodotti da palestra commerciale sono comunque appena appena più cari in questo momento perdono il sovrapprezzo e quindi Technogym potrà permettersi di alzare ancora i prezzi se dovesse continuare a picchiare l'inflazione un mio primo target potrebbe essere intorno a 9 ma comunque è un'azienda non ipervolatile che non mi può chiaramente fare il 100% in un anno quindi nel frattempo comunque è un'azienda che paga dividendi non c'è doppia tassazione anche in questo caso quindi per quanto mi riguarda non è male e su questa sto già pensando di fare un ingresso in questi giorni ultima azienda di oggi quella più rischiosa ma anche quella che può dare ritorni più interessanti e anche in tempo più breve sto parlando di Digital Turbine il ticker è apps proprio come applicazioni questa azienda non è molto conosciuta ma comunque capitalizza un miliardo e mezzo che non è pochissimo il business è relativamente semplice sono un'azienda che si occupa di pubblicità in modo però un pochino più indiretto avete presente quando ho comprato un telefono nuovo e ci sono già installate tutta una serie di applicazioni ecco quelle applicazioni non è che le ha messe il produttore per facilitarvi la cosa ma il produttore dello smartphone ha ricevuto dei compensi dai proprietari delle applicazioni per mettercele lì sopra non è che se sul telefono c'è già installata Netflix che ne so Samsung lo fa per fare un favore a Netflix o facilitar l'utente assolutamente no è Netflix che ha pagato Samsung per metterci quell'applicazione già preinstallata quando però i produttori di telefoni non riescono a gestire questa attività perché bisogna comunque tracciare tutte le performance capire come profilare l'utente allora si rivolgono ad aziende terze che fanno un po' da middleman come Google in questo caso e quindi vanno un po' a mettere in comunicazione i produttori di applicazioni e i produttori di smartphone e questa è un'azienda che si occupa di tutto ciò l'azienda a livello di fatturato è cresciuta davvero tanto anche l'utile parallelamente e anche il free cash flow però è decisamente rischiosa non tanto per il business che a mio avviso è interessante certo è che nella fase in cui stiamo vivendo è comunque rischioso perché in certi casi il budget pubblicitario è tra i primi a saltare ma è rischiosa per altri motivi tanto per cominciare ha tantissimo debito parliamo di mezzo miliardo di debito a lungo termine e un'azienda che capitalizza un miliardo e mezzo quindi dovessero andar male le cose diventa una bella zavorra questo debito altro elemento che mi fa un po' dire boh sai cosa me la devo studiare ancora un pochino è un'acquisizione che hanno fatto di recente davvero importante per 600 milioni di dollari di un'azienda di nome Fiber tanto per cominciare l'acquisizione a mio avviso a livello finanziario è stata un fiasco perché l'hanno pagata tantissimo e non era ancora così profittevole come lo è per esempio invece Digital Turbine e oltre tutto ciò le sinergie sono abbastanza poche perché Fiber si occupa sì più o meno della stessa cosa ma non esattamente quindi insomma se vedete dei fatturati che sono molto in crescita tenete anche conto che questo fatturato è alimentato da una recente acquisizione al momento le valutazioni in termini come ratios quindi come rapporti pie e bidda e così via sono addirittura più basse dei livelli del fondo della pandemia ma se la sto valutando è perché mi aspetto che durante una ripresa dopo questa situazione che stiamo vivendo ecco che allora ripartiranno i budget pubblicitari e questa tra tutte le aziende potrebbe essere una di quelle che riparte con più forza però come sempre gli extra rendimenti arrivano ad un costo quindi ci tengo a rimarcarlo questa azienda è molto particolare va analizzata davvero a fondo e io ancora non ho finito il mio lavoro intanto volevo parlarvene perché magari altri la vorranno studiare ma io ancora mi prendo un pochino di tempo e voi invece come vi state muovendo in questa fase state acquistando state vendendo al contrario perché pensate che stia arrivando l'uragano insomma ditemi un po' qua sotto cosa ne pensate ma soprattutto se volete vedere come mi muoverò io non dimenticate di iscrivervi qua sotto e di schiacciare sulla campanella per oggi è tutto io vi saluto e alla prossima a Grazie a tutti.